ci faremo ci faremo ci faremo un whatsapp dopo ci dai ci dai una ma non ti vedo è andato a prendere il bicchiere ti sei girato ma come fai a prendere gli schiacciati? becca culo ma si è quello lì con la mamma io sono della serata davvero bello ma li fornisci in questo periodo? c'è il ventilatore ho la pala per l'estate c'è un vino al vino il color vino il color vino vai tranquillo salute ragazzi salute 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 vi voglio bene anche noi vi vogliamo bene vi vogliamo bene vi vogliamo bene vi vogliamo tutti bene direi peppo e gp per l'organizzazione mi sembra che non è venuto perfettamente lino alla gloria giustamente grazie grazie bravo ragazzi ci troviamo in carboneria da qualche parte così non va bene troppo frammentato ho lì ho lì ehi guarda tu sembri al mare potrebbe diventare come il 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 mare avremo uno zoom avremo uno zoom non ho capito chi c'è c'è vengo al mare cos'è Alberto Alberto Belanasconi a sei che fai fai haINGA uno zoom c'è un po' una luce un po' contro luce contro luce si al denaro di sera alle sette lo zoom lo posti su tempo chi c'è c'è come il baretto tutti i giorni buona idea appoggio l'idea di Giampiero ottima l'idea di pensi tu Giampiero? che pensi mi? al venerdì sera chi c'è c'è ci vediamo ci vediamo chi c'è c'è se qualcuno la deve aprire se la apriamo tutti a casa non ci viene niente scusate ma cosa stai facendo Thomas? ma Thomas ma sei un avatar Thomas cosa fai? risotto sta correndo risotto mi sembri un avatar ha messo la camera nel risotto? no 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 c'è la cipolla davanti c'è una cipolla davanti spero che mi veniva da piangere Thomas Thomas noi ci conosciamo che anno sei di Bach? 63 di Bach 2002 è del 2002 è invecchiato veloce è del 2002 è invecchiato molto veloce è l'effetto serbo posso parlare io? posso parlare io? che è che ha detto dell'effetto serbo? nei 60 anni dove le festeggiano? hai invecchiato molto veloce ma quando è che mi fai? quest'anno? aspetta il 2 maggio dove le festeggiano? casa a casa a casa ma no quel vecchietto qua dentro sono io sono ancora aperti gli impianti di sci a Montbello fateci scusate è un po' è un po' è un po' dici qualcosa da tenere c'è la teresina che ti vuole salutare mi sembra di conoscere sta voce hai una voce è che arriva Camillo certo che ti ho riconosciuto dalla voce a ritardo Camillo quando finisce tutto quello che rimane con Camillo in mano è Camillo è Camillo è Camillo è Camillo è Camillo hai capito? 3 minuti 3 minuti 3 minuti 3 minuti 3 minuti è tutto bene eccolo a ritardo Camillo vai coglioni eccolo è Camillo con l'applauso ciao Camillo bravo ciao Camillo vai Camillo quanti siamo? 10 22 24 no adesso 22 2 minuti 2 minuti c'è un'altra chiamata voglio mettere un po' di musica? un po' di musica scusami provete che mi dica non sto facendo un cazzo non posso uscire non devo fare aspetta aspetta ciao sono su due conversazioni in contemporanea ragazzi scusate ma c'ho qua c'ho qua già un altro meeting c'ho la call aspetta che saluto stiamo per chiudere quella della scuola aspetta ragazzi un attimo ci siamo ci chiudono Andrea non c'è ciao a tutti ragazzi ciao ragazzi alla prossima c'è un gruppo interferonetro qua ciao e pure alla prossima salute dal Belgio abbiamo ancora un minuto su quello della scuola resta dal Belgio 59 54 ci senti? ci senti? ci senti? ci senti? ci senti? ci senti? dai saluta ragazzi ciao 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 a tutti ciao a tutti auguri ciao 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 a tutti ciao 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 ragazzi alla prossima a venerdì prossimo ci vediamo venerdì prossimo a venerdì a venerdì quando vuoi venerdì ragazzi ciao salute ciao statemi bene ciao ragazzi grande Peppo bella idea ripetiamo ciao 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 Camillo ciao Fabio ciao Peppo ciao 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 Grazie.